Rilanciare il commercio a Saione, così si spiega la mossa del Comune di Arezzo che prevede l'esenzione dalla pagamento del COSAP relativo all'occupazione di suolo pubblico per tutte le attività commerciali su area pubblica, permanenti e temporanei, compresi i mercati di Saione, Piazza Zucchi, le manifestazioni e gli eventi su suolo pubblico a carattere temporaneo, nonché le occupazioni relative ad attività di somministrazione. Il provvedimento in vigore per tutto il 2020 riguarda la zona di Saione ed è stato approvato dalla giunta. Il perimetro interessato comprende il Pionta, via Cittadini, il Parco Mancini, Campo di Marte, la linea ferroviaria, il Parco Arno, via Vittorio Veneto, via Curtatone, via del Pionta. Il progetto si propone di incentivare lo sviluppo delle attività economiche collegate al quartiere di Saione, un'area con particolari situazioni di difficoltà anche collegate alla sicurezza urbana e a quei fenomeni di chiusura di attività commerciali. L'obiettivo è stimolare interventi di riqualificazione ed attuarsi tramite iniziative di carattere commerciale oppure con manifestazioni ed eventi di aggregazione sociale o oltre che favorire la rivitalizzazione dei mercati rionali. Quella zona di città merita un'attenzione particolare non soltanto dal punto di vista della salvaguardia della sicurezza ma anche dell'incentivo alla vivibilità, commenta l'assessore Comanducci. Una zona vissuta, frequentata e una zona più sicura in questo senso la presenza degli esercizi commerciali diventa un fattore fondamentale. La leva fiscale, come abbiamo già avuto modo di sperimentare, conclude l'assessore, rappresenta uno strumento utilissimo che favorisce la nascita e la sopravvivenza dei negozi oltre che l'organizzazione di eventi molto partecipati.